Cari amiche e cari amici, voglio parlarvi un po' così, a briga sciolta. Immaginate un alcolizzato, oggi si dice alcolista, si cambiano i vocaboli ma la sostanza non cambia. E immaginate che questo alcolizzato, per forza di cose, si è costretto a stare senza alcol per un lungo periodo e praticamente si trova disintossicato. Perché era diventato alcolizzato? Perché aveva scelto l'alcol come soluzione dei suoi problemi. Ora, se questa persona, una volta uscita da questa condizione di assenza di alcol, ritornasse a bere, domanda retorica, secondo voi migliorerebbe o peggiorerebbe la sua situazione? Appunto, domanda retorica. In realtà ricomincerebbe come prima, probabilmente peggio di prima. E' quello che succede a questa società impazzita. Io sono convinto che la Terra, il nostro pianeta, non sia fatto semplicemente di rocce, di piante, di acque inanimate. Ma ha una sua armonia che non solo va rispettata, ma può anche eliminare chi disturba questa armonia. Noi siamo arrivati a devastare il pianeta. Perché abbiamo devastato il pianeta? Ne parlavo in una playlist sul liberismo, una playlist che mi pare ho pubblicato tre anni fa. E dicevo che il liberismo è il male principale di tutto, perché porta il germe dell'individualismo e quindi dell'asocialità, che è conseguente all'individualismo. E quindi sparge questo veleno nelle menti e nelle interiorità delle persone. E così come tutte queste mostruosità, la competitività, la meritocrazia, tutte parole che siete stati abituati a sentire come qualcosa di positivo, che invece ci hanno portato a questa situazione. Perché il virus non è neanche tanto importante se sia stato creato in laboratorio o meno. Il virus, secondo il mio modo di vedere, è un po' come la crisi. Se non ci fosse stata una crisi spirituale, non ci sarebbe mai stata una crisi economica. E se non ci fosse stata una crisi spirituale, che ci ha portato ad osannare l'economia e anche la scienza, che è tra i principali fattori di questa devastazione che stiamo vivendo, ebbene, se non avessimo messo la scienza, la finanza, il liberismo, la privatizzazione al primo posto, ai vertici della nostra scala di valori, non ci troveremo in queste condizioni. Quindi la soluzione non è nel tornare come prima. Mi riallaccio all'esempio dell'alcolizzato dell'inizio del video. La Terra ha risorse limitate, questo lo sanno anche i paracarri, non solo i bambini, ma pure i paracarri lo sanno. E noi abbiamo fatto una vita come se queste risorse fossero illimitate. Però questo discorso non va visto solo dal punto di vista materiale, va visto dal punto di vista spirituale. Perché se recuperiamo un giusto e onesto contatto con noi stessi, recuperiamo quell'armonia che proietteremo anche sulla Terra. Il nostro agire non potrà andare contro la Terra, contro il pianeta, perché noi siamo parte di un tutto. Quindi dobbiamo cercare di vivere in armonia il più possibile con questo tutto. Ma la strada del liberismo, se non si è capito ancora adesso, che è un fallimento, credo che da questa tragedia del coronavirus passeremo ad altre tragedie, ancora più pesante. Adesso ci troveremo ad affrontare una crisi economica spaventosa. E avete messo al governo degli incapaci. Io l'avevo sempre detto che erano degli incapaci. L'assurdità dei discorsi non vogliamo politici di professione. Come se la politica la potesse fare un passante qualsiasi, no? Grillo che diceva, sì, ma la politica la deve fare uno come me, uno come te. No, è come dire un ponte e non vogliamo che lo costruisca un ingegnere. Un'operazione chirurgia, non vogliamo. Che gente lavorata in medicina non ci interessa. Vogliamo degli appassionati della materia. È la follia. Ma era una follia dall'inizio. Tutto è streaming. E sì, io lo dicevo da sempre. Chi seguiva il mio canale. Ma voi fate sapere ai vostri avversari le intenzioni politiche che avete. non può funzionare una cosa del genere. E così era tutta un'assurdità. Ma non l'avete saputo vedere. Accecati sempre però dalle logiche individualiste. Dalle logiche che mettono al primo posto nei problemi i rapporti economici. E' questo che bisogna cambiare. Non possiamo continuare tutto come prima. E chi auspica questo auspica qualcosa di sbagliato. Perché torneremo alla distruzione di noi stessi e del pianeta. dobbiamo cominciare a rieducarci. A comprendere che il problema fondamentale è un problema spirituale. Di rapporto armonico con noi stessi. Avete mai fatto caso che chi è nervoso trasmette questo nervosismo? E così chi è in armonia trasmette questa armonia. Io mi allievi già da un po' di mesi che gli ho detto guardate che sta per succedere qualche casino. Perché? Perché c'è tensione mondiale. E tutta questa tensione, come in cielo così in terra, come in alto così in basso, macrocosmo, microcosmo, non è che noi siamo estranei al pianeta. Questa nostra tensione si rifletterà sul pianeta. E quindi di rimbalzo ci arriverà qualche situazione qualcuno può pensare, sì, ma che c'entra il virus? No, c'entra moltissimo. Per chi ha gli occhi per vedere, c'entra moltissimo. E se non si impara la lezione, arriveranno lezioni più pesanti. E allora basta. L'economia fino adesso ha agito come se la Terra fosse piatta e infinita. No, la Terra è una sfera, con risorse limitate, dove un'espansione continua dal punto di vista del mercato. Non è possibile, perché è una sfera finita, non è una pianura infinita. E allora bisognerà cominciare a entrare nell'idea che l'utopia può diventare realtà. Però bisogna cominciare ad accettare qualcosa di cui adesso vi accenderò, poi magari se vi piace questo video, me ne accorgerò e rifletterò ancora così ad alta voce con voi. bisogna accettare l'idea che bisogna restringere i propri bisogni. L'esatto opposto che quello che vi hanno detto fino adesso. Aprite i cassetti di casa, quante cianfrusaglie trovate che avete comprato e che non vi servono? È pieno di questa roba. Perché vi hanno ridotto a compratori compulsivi. Bisogna invertire il processo. Non seguire più le mode. La moda è un qualcosa di totalmente negativo. Si comprende questo solo in alcuni casi, però. Pensate se un chirurgo che dovesse operarvi al cuore dice ma perché sceglie questo tipo di operazione? Lui dice beh perché va di moda. Vi prenderebbe un colpo. Beh ma la moda è negativa in ogni caso. Perché la moda significa spreco, consumo. Sostituire in continuazione. E quindi ampliare i propri bisogni. E c'erano delle tavole da surf e da neve, no? C'era un maestro di sci, che conoscevo io, che li affettava. Lui diceva che c'era gente che li cambiava da un anno all'altro. Erano molto costose. Perché non andava più di moda quel colore. Questa è la follia da cui dobbiamo uscire. Bisogna cominciare a restringere i nostri bisogni. Uno dice eh sì ma così il mercato poi, l'economia poi. Eh bisogna entrare in un'altra logica. Non ci vuole più il mercato al primo posto. E l'economia deve tornare ad essere ciò che era in origine. Già ne parlava Aristotele. Uno strumento, non un fine. E finché continueremo a mettere l'economia, la finanza al vertice della nostra scala di valori. Continueremo a darci le martellate sui piedi. Però non possiamo lamentarci che ci fanno male i piedi e che non riusciamo ad andare avanti. Questo coronavirus può insegnare molte cose. Che non c'è necessità. In realtà, perché la gente impazzisce? Perché non è abituata. Io sono più di 15 anni che per scelta sto a Roma. Non sono mai più uscito da Roma. Ho rinunciato alle vacanze all'estero, alle vacanze fuori. No, io sto sempre qua. Quindi non è cambiata molto la situazione. Ma non pretendo che voi facciate questo. Non sto dicendo questo assolutamente. Sto dicendo però che personalmente, da quando ho scoperto quello che i cristiani chiamerebbero il regno dei cieli, che è dentro ciascuno di noi, non ho più nessuna necessità esterna di alcun tipo. Ossia, ho quelle necessità che, a mio parere, ho già in abbondanza. Io ogni giorno che mi alzo ringrazio il cielo perché non ho dormito all'addiaccio, perché ho un posto dove dormire, ho una casetta della giusta misura. Non è né un buco né una reggia. Quanto basta. E quindi dobbiamo riscoprire la giusta misura. Dobbiamo riscoprire il quanto basta. Dobbiamo cominciare a smetterla di essere compratori compulsivi. Dobbiamo cominciare a smetterla di dare valore ai soldi come se fossero anche questi un fine e non uno strumento. Per riscoprire tutto questo ci vuole introspezione, spiritualità. L'Occidente da troppo tempo sta andando avanti. Già, pensate, Pasquale lo diceva nel Seicento. Diceva, il problema che abbiamo oggi è che nessuno sa stare più un'ora in silenzio nella sua stanza. Lo diceva nel Seicento, nel XVII secolo. Pensate se si trovasse a vivere questa follia di oggi. Quindi restringere gradualmente i propri bisogni. Riscoprire le relazioni umane. La grandezza delle relazioni umane, anche della famiglia, dei figli. Dello star bene insieme con poche cose. Io ricordo i miei nonni vicino al caminetto, la sera, mi raccontavano delle storie. Erano abituati così e ci si accontentava di poco. Si faceva la bruschetta, mio nonno ci faceva dei giocattoli fatti con lo spago, con il cartone. E si stava tanto bene tutti insieme. Dobbiamo riscoprire la semplicità. Se vi è piaciuta questa mia riflessione, fatemelo sapere, ne farò altre. Così sarà un'occasione per riflettere insieme. Sempre un bel pollicione su. Ovviamente anche pollicione giù, se non siete d'accordo, non c'è problema. Ma sempre accollati al decimo toro. Perché, che siate o non siate d'accordo, è sempre un'occasione di grande riflessione. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.